buongiorno a tutti buongiorno buona domenica da parte di aie mister blogger valeriani avrei dovuto fare un video sfogo dopo dopo magari una 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 possibile sconfitta a bologna o un video un video allegro dopo una vittoria con bologna milan invece sono qua a commentare il solito pastrocchio all'italiana il solito schifo una società che non c'è una società che abbassa la testa di fronte a ogni schifo che non si fa rispettare via scaroni via cardinale via tutti senza palle senza palle vi siete fatti mettere in piedi in destra dal bologna che per che ha messo in mezzo la scusa dell'alluvione per riposare perché qualcuno mi deve spiegare perché gli altri eventi che comunque porteranno gente a bologna si svolgono e si svolgeranno regolarmente vergognatevi 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 perché se l'alluvione c'è perché l'alluvione c'è c'è per tutti non solo quando vi conviene e la cosa più disarmante è che ci sono in giro foto della viabilità bolognese delle zone antistante allo stadio dove si cammina i problemi erano in altre zone maggiormente colpite devastate distrutte ma la domanda sorge spontanea perché gli altri eventi si svolgono regolarmente perché hanno detto e lì arrivano quasi più di 35 mila persone ma anche alla fiera ci sono un sacco di persone al motor show ci saranno un sacco di persone la partita della primavera si è svolta regolarmente perché perché solo quella per inguagliare il milan contro il napoli e non far giocare teo ernandez serrenders vergognatevi 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 a pensare male ci si piglia a pensare male ci si piglia quindi è questo lo sfogo di oggi nulla contro gli alluvionati perché anzi chi vuole donare chi vuole donare darò un contributo alle alluvioni di bologna farò una donazione tramite chi vorrà donare sotto questo video metterò il link paypal e farò una donazione per gli alluvionati però mi gira il cazzo essere preso per culo da quelli che dicono ma lì non si può giocare però gli altri eventi si fanno o si svolgeranno regolarmente quindi dov'era il problema dov'era il problema qualcuno ci spiegasse perché bologna milan non si può giocare a porte chiuse non si può giocare altrove perché bologna non vuole andare in un altro stadio e io milan sai che gli dicevo non volete giocare bologna milan in un altro stadio vi buscate il 3 a 0 a tavolino milan napoli non si gioca fatevi rispettare società di pagliacci società di pagliacci vi fate mettere a 90 da chiunque vergognatevi vendete il milan e levatevi dalle palle perché ballotelli non vi poteva servire fra gli svingolati vergognatevi vergognatevi una società che non serve a niente quello che scrive fonzi zia hai rotto il cazzo fa il dirigente o levati dalle palle fonzi la gestiva meglio di te questa società vergogna vergogna ma ma è veramente una società le dichiarazioni di scaroni di fronte alla dichiarazione del sindaco abbassiamo la testa vendi e levati dalle palle vendi e levati dalle palle berlusconi avrebbe fatto un casino bologna milan si sarebbe giocata vergognatemi perché il bologna non può andare a giocare a porte chiuse il milan aveva correttamente organizzato quattro trasferte a empoli a como comunque il milan si era organizzato risarciteci se abbiamo speso dei soldi perché per prenotare un albergo si paga il cash per organizzare una trasferta si spendono soldi rimborsateci uno schifo uno schifo una società che non si fa non si fa rispettare in alcun ordine grado vergognatevi 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 io io rimango schifato e non ridito da quello che ho visto perché una società che abbassa la testa io mi io mi schifo perché io dicevo non si gioca a bologna milan oltre a zero a tavolino o milan napoli non si gioca perché io ternandez e renders li voglio avere in campo non squalificati vergognatevi 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 io sono sono veramente deluso da quello che ho visto in tutta questa storia e non c'entrano niente gli alluvionati che quelli hanno altri problemi ma se bologna milan non si poteva giocare si invertiva il campo qual è il problema si faceva giocare milan bologna il sabato alle 18 tanto inter juve si poteva giocare lo stesso perché era a 24 ore di distanza si cambiavano si cambiavano i biglietti qual era il problema sta partita si doveva giocare si doveva giocare o invertendo il campo o andando a porte chiuse o da qualche altra parte si doveva giocare perché si è falsato un campionato e lo schifo di lotito che anche appoggiato la scelta voglio ricordare allo tito che se milano bologna saranno in lotta per posti uefa o per posti contro la sua lazio il campionato è falsato perché c'è una partita in meno solo solo in italia questo schifo solo in italia questo schifo e io rimango basito rimango veramente disgustato da come si è gestito questa tutta questa questa situazione non si è voluto giocare per penalizzare il milano sempre nel nostro culo va a finire perché se c'era bologna napoli bologna inter bologna juve si sarebbe giocata sicuro 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 per non far squalificare i giocatori contro il milano chiaro chiaro perché a pensare male ci si piglia perché riparisco massimo rispetto per gli alliuvenati ma qualcuno mi deve spiegare perché gli eventi che saranno nei prossimi giorni si svolgeranno regolarmente è questo perché si poteva giocare a porte chiuse da qualunque parte c'era messo il senigallia si poteva andare a verona si poteva andare da qualunque parte a giocare uno stadio a porte chiuse nell'interland del nord lo trovavi lo emboli si era offerta a porte chiusa perché non giocare sta partita perché visto che ci sono delle immagini che dimostrano che la viabilità era era in sicurezza in sicurezza a porte chiuse che fa giocare bologna milano a porte chiuse si rimborsano i biglietti e risolte il problema ai milanisti si si regalava una trasferta gratis ai bolognesi si regalava una partita gratis e aveva risolto il problema o gli rimborsava il biglietto o si invertiva il campo perché invertire il campo non si poteva fare invece il bologna milano si giocava milano bologna e la partita di ritorno sarebbe stata bologna milano ad aprile è risolto il problema il bologna veniva a milano qual'era il problema si invertiva il biglietto o si giocava a milano a porte chiuse una soluzione si trovava ma bisognava favorire il napoli bisognava non non intralciare l'attenzione su inter juve chiaro chiaro ma innanzitutto la vergogna della mia società le dichiarazioni di scaroni sono vergognose perché ribadisco berlusconi l'avrebbe fatta giocare berlusconi avrebbe fatto casino chiaro 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 io ribadisco metterò il link paypal per chiunque voglia fare una donazione per gli alliuvenati io mi informerò su come fare poi una donazione agli alliuvenati di bologna se si riuscirò a farla se donerete su questo video prossimo video martedì non l'ho fatto sabato perché mi stavo concentrando per il derby con la mia squadra di seconda categoria dove purtroppo ho fatto schifo e quindi abbiamo perso abbiamo perso la partita quindi quindi non l'ho fatto per questo ma sarei stato schifato e non redito anche alle 18 e 30 perché sta sta gestione di questa di questa situazione è da darvi il tapiro ad ogni ad ogni ordine e grado vergognati ciao a tutti